Bianconata Ah, ecco perché C' habe non arrivé a un certo Ups for Street Che hai detto, scusa? Nulla Ah e qui ha tante luci Bambu Natale che fa acquisti per regali dei trini londinesi Bambu Natale che prepara le scappette a regalare a Franceschina vediamo se è schifo dalla faccia che c'è la lampada vediamo il prossimo Bambu Natale che prepara dolci questo può andare per me a te le borsette a me i dolci bravo Bambu guarda che bella torta che c'è eh? che bella torta che c'è qui Bambu Natale che mi sa anche che ha bevuto un po' troppo sa che la torcetta, che la cuffietta guarda quanto sfumante ci ho bevuto un po' troppo mi sa qua festeggiato si è impicchiato discoteca con la vodka provo Babbetto attenzione qua parte per portare i giochini e questo era Bambu Natale in Oxford Street ecco un bambetto roba espetta che c'è a casa i piedi spaziali qua sta facendo una cosa che non faccio mai sta facendo lavatrice vabbè quella la faccio però sta girando la seconda fase non faccio mai ma dalla cosa c'è dentro la lavatrice il suo cappellino ce l'ha in testa ce l'ha sostituto qua tanta birra per me spumantini anzi tutti bravo babbo sulla metro mazzo però ci hanno spese a fare queste vetrine spettacolari ah qua se ne va al barbiere si fa bello perché devi portare i pacchi qua sta mangiando cinese qua si c'è le bacchette e penso si cinese tutto cinese grande babbo qui tutti i babbetti ma che c'è f***o con gli occhialetti underground mi dico e non finisce qua ragazzi il nostro mitico babbo continua è addormentato e sarà stanco tutte queste cose che ha fatto e qua si sta a sentire la musica per ritassarsi si vede proprio le cose sue non so che cos'è e poi so che finirà il nostro babbetto che parte Tokyo Paris New York Londra pensate di sia finito no non può essere finito questo continua questo è delle mutande colorate questo è il tram con le mutande su appese non so che